Buongiorno, stamattina iniziamo con roast beef Una bistecca, perché no? Coppa o prosciutto O stoletta o filetto Il fassuco o agli stagliotori Un roast beef, no? E adesso un bel piatto con questa fantastica fracosta Polpettina o polpettina Ho l'occasione per chiedervi questa grandissima collaborazione Fateci sapere, troverete le polpettine che vi servono In modo che vi possiamo servire nella maniera migliore possibile E darvi le migliori polpettine per la vostra fantastica lasagna Buona giornata e grazie Oh, there's grinning and mandolin No, 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 no Grazie.